ragazze ricettina semplice semplice melanzane peperoni pomodori patate e cipolla tutto tagliato a bastoncino vedete le cipolle le ho tagliate così ad anello mettiamo tutto in una teglia con carta forno non vi dico la bontà oggi mi è andata appunto di tagliarli così a fiammifero bastoncino chiamateli come come volete tanto il risultato è sempre quelle peperoni melanzane cipolle patate è sempre quello mi è piaciuto mi sembrano più belle tagliate così ok continuiamo gli ultimi pezzi di pomodori e gli anelli di cipolla guardate come li apro guardate come li stacco guardate che buoni questa è una cipolla bianca sicuramente anche una cipolla calabrese sta benissimo allora a questo punto che faccio una bella presa di sale perché la roba è tanta e quindi una bella presa di sale e poi l'olio ok allora possiamo aggiungere il peperoncino che io non metto perché le mie gengive non lo tollerano possiamo mettere un po di mollica di pane grattugiato modo che fa un po di crosticina ma vi devo dire che io li preferisco così e poi possiamo mettere volendo anche un po di formaggio grattugiato sopra allora io li sto facendo così e aggiungo un pochino di origano ok al forno a 180 gradi per circa 25 minuti e voilà un buonissimo contorno o secondo 9 10 10 11 12 12 13 13